Musica Musica Care sorelle e cari fratelli, buongiorno a voi. Oggi è mercoledì 21 luglio, siamo nella sedicesima settimana del tempo ordinario. E ascolteremo la nota parabola del seminatore in Matteo al capitolo 13. Come sempre prima di iniziare invochiamo l'aiuto, la protezione dello Spirito Santo. O Dio che hai promesso di stabilire la tua dimora in quanti ascoltano la tua parola. Fa che io non ponga ostacoli alla parola che uscirà dalla tua bocca, affinché non ritorni a te, senza avere operato in me ciò che tu desideri e senza aver compiuto ciò per cui l'hai mandata. Questa è una bella invocazione del Cardinal Martini. E adesso proclamiamo il nostro testo, Matteo capitolo 13, versetti da 1 a 9. Musica Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose comparabole e disse Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto. Il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Abbiamo iniziato il capitolo 13 dell'Evangelo di Matteo. Ci introduciamo in questo capitolo che sostanzialmente è composto da parabole. Vi sono sette parabole per l'esattezza. Sette sappiamo che è il numero che indica pienezza. E infatti qui Matteo presenta la predicazione di Gesù sotto forma di discorso in parabole. La parabola del seminatore è un esempio caratteristico del genere parabolico. Essa usa una comparazione che è ripresa dall'ambito della vita quotidiana per illustrare un insegnamento. Gesù parla in parabole per comunicare ad altri, a chi lo ascolta, il mistero della sua vita e anche della nostra vita, lasciando con libertà all'ascoltatore la possibilità di comprendere il messaggio sotteso, secondo la capacità di ascolto di ognuno e di comprensione. Chi ha orecchi, ascolti, si dice al versetto 9. Gesù nel capitolo 12 si trovava con i discepoli raccolti attorno a lui nella casa. Dalla casa esce. Infatti si dice quel giorno Gesù uscì di casa. Dalla casa esce, compie una sorta di esodo e va verso le folle, proprio perché la sua parola sia rivolta a tutti per seminare la parola nell'ampio spazio del mondo. L'immagine del mare è ancora evocativa dell'esodo ed è la folla del nuovo popolo che con Gesù, nuovo Mosè, compie insieme a lui l'esodo definitivo. Colpisce il fatto che molta gente si raduna intorno a Gesù, perché sente, percepisce il fascino della sua parola e del suo insegnamento. La parola di Gesù ha un grande valore, ha un significato profondo, una grande verità, comunica una profonda libertà, che è superiore a qualsiasi altra parola. E la gente, la folla, avverte tutto questo. Gesù parla stando a sedere sulla barca e la folla è sulla spiaggia ad ascoltare. C'è qui un'idea di trascendenza. La barca rappresenta la chiesa. Il seminatore, si dice al versetto 3, uscì a seminare. Il seminatore è Gesù, che è uscito dal Padre per seminare la parola, venire incontro a noi e annunciare a noi la paternità di Dio. Gesù è il seminatore, ma è anche il seme e il raccolto. L'attività di Gesù in questi mesi, in questi anni, nei quali instancabilmente è passato tra le genti con la sua predicazione, è una semina. E il discorso è, avrà effetto? Ma in Isaia 55, nei versetti tra 1 a 11, testo bellissimo e noto, si dice che la parola di Dio è come la neve, come l'acqua che scende dal cielo e feconda la terra, non viene inutilmente, non ritornerà a Dio se non quando avrà raggiunto il suo scopo, il fine per cui è stata inviata. Il soggetto, dunque, è il seminatore, ma l'attenzione in questa parabola è posta sul seme, anzi, sui semi. Qui comincia l'avventura, o per meglio dire la disavventura del seme, perché in ben tre situazioni su quattro, la storia finisce male. Cosa accade? Il seminatore, il contadino, spargeva la semente prima della ratura. in campi che nulla avevano a vedere con i nostri campi attuali, campi molto sassosi, molto aridi, non fertili, desertici, come è ancora l'attuale Giudea. Questi terreni venivano arati con un aratro rudimentale di legno, con una punta di ferro, il cosiddetto aratro a chiodo, che passava dove erano stati gettati i semi, smuovendo un po' con la terra alla meglio, per aiutare il seme a germogliare e a crescere. Ciò che è narrato al versetto 4, però, dice che il seme cade sulla strada, sul sentiero, e viene subito beccato dagli uccelli. e quindi questa è la prima disavventura del seme. Ma il seminatore che è Gesù non sceglie il terreno più adatto per seminare, non fa alcuna discriminazione fra terreni. Gesù parla a tutti, non ipoteca il risultato, getta abbondantemente il seme, nella speranza, anzi, nella certezza, che qualcosa di positivo accadrà. Vediamo ai versetti 5 e 6 la seconda situazione, anch'essa purtroppo con esito negativo. I semi questa volta attecchiscono e germinano, però questo avviene precocemente, subito, dice il testo. Essendo la terra sui sassi scarsa, quando piove raramente, subito c'è un po' di umidità che consente al seme di germogliare, ma poco dopo quell'arsura tremenda non gli permette di crescere e quindi il seme viene bruciato dal sole. Nel primo caso, dunque, il seme scompare ancora prima di attecchire. In questo caso il seme attecchisce, ma subito secca. Secondo fallimento. Terza situazione, al versetto 7. Ancora una situazione negativa. L'aratro a chiodo di cui si è parlato aveva anche una funzione meccanica di diserbare, strappando le erbacce, ma la sua funzione povera era un aratro rudimentale e non sempre efficace. Difatti, insieme ai semi al grano, crescono erbacce, rovi, che ben presto soffocano i poveri semi sopravvissuti all'arsura. Quindi dal versetto 4 al versetto 7 è descritta la difficoltà della semina. Queste sono le difficoltà che Gesù incontra seminando nei poveri e difficoltosi terreni che siamo noi. Queste sono le difficoltà che la parola del regno incontra nel suo instancabile annuncio. O non è ascoltata o attecchisce poco poco e poi scompare. O è soffocata da altre preoccupazioni e distrazioni. Però Gesù sa che il fallimento fin qui prospettato non avrà l'ultima parola. Il campo è vero a sassi, rovi ma è il suo campo. È il campo di Dio. Questo campo di Dio che è l'uomo offre resistenza, incostanza, durezza di cuore ma è nato per la parola di Dio. È creato a immagine di Dio. La semina incontra difficoltà di ogni tipo però ha anche una grande possibilità di frutto e di raccolto che è strepitosamente abbondante al di là di ogni previsione perché il regno è di Dio. Al versetto 8 finalmente si dice altri caddero sulla terra buona. Letteralmente si può anche tradurre caddero sulla terra bella dove bello e buono si corrispondono e richiamano l'inizio della creazione. Il seme, il figlio dell'uomo che scende nel cuore della terra, nel cuore dell'uomo trova a un certo punto un terreno propizio, buono, bello. Ogni cuore ha la possibilità di generare il figlio, quel figlio che è di Dio ma che è anche detto figlio dell'uomo. Ritornando al nostro terreno questa volta il risultato è prodigioso. Cento, sessanta, trenta per uno. Gesù quando semina non si scoraggia mai mette in conto la difficoltà e guarda oltre non la croce ma la gloria non la fatica ma il risultato non se stesso ma Dio. Questo è un grande atto di fede da parte di Gesù fede in Dio che è padre fede nella potenza della parola e a tutto questo a questa fede siamo chiamati anche noi. Preghiamo Signore a volte io sono terreno duro e impenetrabile questa è la mia corazza aiutami a superare le mie rigidità e incontrami tu che semini e raccogli tu che irrighi e dissodi le zolle preparami ad accoglierti ad accogliere nella pace quanto il Padre sogna per me forte del tuo amore sostienimi nel maturare risposte tanto decise quanto personali per incontrarti faccia a faccia nella verità di me stessa te lo chiedo e te lo chiediamo nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen arrivederci a domani e grazie del vostro ascolto Grazie a tutti Grazie a tutti